Ciao bimbi, come state? Tra pochi giorni sarà il primo aprile e allora vi propongo di fare un bel pesce colorato. Vi serviranno dei fogli, dei pezzetti di sedano, dei colori a tempera se li avete, dei pennarelli e la voglia di fare dei disegni di alcuni pesci. Ok, fatti? Adesso passiamo a colorarli. Intingiamo il sedano nella tempera e poi stampiamo come più ci piace. Bicolore, scegliete voi come vi piace. Bene, adesso aspettate che si asciughino e poi con una forbice li ritagliate e aspettate che siano pronti per il primo d'aprile e metteteli alla schiena di chi è in casa con voi. Ciao bimbi, buon divertimento!